buongiorno follower ora vi faccio vedere una cosa che forse non tutti potrete vedere questo è stato questo è il mare è il mare quello che ah no no è vero è vero è vero che conte va detto che quest'anno andiamo tutti al mare che fa il bonus vacanze solo che volevo dire una cosa visto che onde per evitare una autocertificazione in più oppure un decreto in me da fa in meno ha detto che il bonus vacanze ve lo da insieme alla cassa integrazione lo avete capito quindi vi da la casa integrazione e vi da anche il bonus vacanze assieme così almeno avete tutto così quello che ha promesso vi ha dato tutto questo è quello che dice lui e poi quello che penso io è tutto diverso però quello che dice lui ecco detto quindi se c'è qualcuno che non ha visto il mare o non lo potrà vedere me lo dica che vi farò qualche video in più così almeno lo potrà vedere perché se aspettate conte campo a cavallo che l'erba cresce diceva mio babbo e mio nonno tempo fa mio babbo lo dice ancora mio nonno è da qualche anno che non lo dice più però l'ha sempre detto anche a lui quindi ecco mi raccomando quando riceverete il bonus vacanze per andare al mare ricordatevi che paga 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 ponte ricordate le parole che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto pietro se andate al mare dovete ringraziare ponte ok quindi buon pomeriggio e alla prossima ciao